Versava soldi nei conti correnti del marito per inesistenti prestazioni temporanee, dirottandoli dalle casse dell'Inps di cui era dipendente. Epilogo con condanne e confisca per una coppia di cittadella, condannata a due anni dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova con l'accusa di peculato, coppie che si è vista togliere anche la proprietà della villetta di famiglia Galliera. Una vicenda portata alla luce dalla Guardia di Finanza che aveva scoperto come la donna dipendente dell'Inps dirottasse somme al marito per prestazioni temporanee e inesistenti. In cinque anni la coppia era riuscita a intescare oltre 50.000 euro, soldi che l'uomo aveva prontamente girato in un altro conto intestato alla moglie usando causali come splendida, fantastica, strepitosa. Guai a non finire per la famiglia. Dallo scorso maggio la donna è infatti ex dipendente dell'Inps.